La puntata di Senza Bavaglio di oggi si occupa del boom turistico che ha registrato la Regione Puglia e in modo particolare l'apporto del territorio di Taranto, che ha svolto un po' una funzione, diciamo così, di traino. La Puglia ha riportato risultati davvero lusinghieri che la rendono leader a livello turistico in campo nazionale ed internazionale. Cifre del genere, un più 18% di arrivi e un più 12% di presenze rispetto allo scorso anno, la dicono lunga, sul boom turistico della nostra Regione. Ma, dicevo, da Tarantino la cosa che più mi fa piacere è l'effetto traino che la città di Taranto e la sua provincia hanno svolto con riferimento appunto ai dati della Valle d'Itria, di Taranto città, dell'arco ionico in generale. Più 3% di arrivi e più 4% di presenze. Questo è il dato numerico che abbiamo fotografato. A questo punto, però, ci domandiamo, ma una città che ha un tale appeal, che ha una tale forza, come mai poi, diciamocelo apertamente, vive nella miseria? È schiava di Ilva Arcelor Mittal? Non riesce ad andare avanti? Chiudono le attività commerciali? E c'è da domandarselo. Eppure, dicevo, i presupposti per sfondare, per essere ricchi, tra virgolette, ci sono tutti. Dobbiamo cercare di capire cosa manca. Forse la programmazione, nel senso che non dovrebbero esserci i singoli eventi, magari presi sporadicamente, ma ci dovrebbe essere tutto un insieme di eventi programmati e spalmati nell'intero anno o nei vari anni. Quindi, voglio dire, benvenga il Medimex, manifestazione musicale internazionale che pone Taranto alla ribalta internazionale, ma il Medimex viene una volta all'anno. Occorre, cioè, una maggiore continuità. Così come i giochi del Mediterraneo del 2026, ottima vetrina internazionale, però non illudiamoci, non bastano i soli giochi del Mediterraneo per far crescere un territorio, se questo stesso territorio poi è carente sotto vari aspetti. Innanzitutto sotto l'aspetto infrastrutturale. Parliamo di collegamenti penosi, per quanto riguarda il traffic, per quanto riguarda i collegamenti ferroviari. Per non parlare poi dell'orrore dell'aeroporto chiuso, l'Arlotta, di Grottaglie chiuso ai voli civili, l'aeroporto che non vola, senza ale, a cui Brindisi e Lecce hanno spezzato le ali. Insomma, voglio dire, è davvero una contraddizione, davvero un cazzotto allo stomaco vedere una città che ha una propensione turistica eccezionale e poi, come dire, si trova frenata. Frenata, lo dicevo, dal discorso infrastrutturale. Ma questa contraddizione tra un territorio che cresce turisticamente e una economia che non riesce a progredire può avere varie cause, forse la mentalità del Tarantino, che è poco incline a intraprendere attività nuove, forse anche una certa classe imprenditoriale piuttosto vecchia e stantia, magari abbiamo più prenditori che imprenditori. E questo ovviamente non fa crescere il territorio. Stiamo cercando di comprendere un po' le cause, perché è davvero contraddittorio. Proprio degli amici del Piemonte, di Torino, innamorati di Taranto, e vedendo questi dati mi dicono, ma cosa dici Luigi, voi state bene? E no, non stiamo bene. Non stiamo bene perché quella ricchezza, quella potenzialità, poi deve essere anche espressa in fatti concreti e ci devono essere strumenti e strutture per passare appunto dalla potenzialità alla attualità. Beh, certamente abbiamo il porto. Il porto è un volano per l'economia eccezionale. Un porto, però, e quindi il discorso della retroportualità, un porto che fidora per varie vicissitudini burocratiche e amministrative, non è mai riuscito a sfondare, a crescere. Ora, ricordiamo la fase di Evergreen, ora c'è il port, c'è anche la cooperazione con i cinesi. Speriamo che dire che con questa compagnia di Stato cinese, che appunto coopererà, dovrebbe cooperare con il port, e quindi potrebbe davvero il porto essere il volano. E dicevo l'altro aspetto, siamo schiavi mentalmente di Ilva Arcelor Mittal. Siamo schiavi della siderurgia, perché si parte dal presupposto sbagliato che se chiude l'Ilva muore il territorio. È un falso problema. Se chiude l'Ilva Arcelor Mittal, il territorio cresce esponenzialmente, prende fiato. E allora smettiamola di essere schiavi dell'Ilva e di pensare sempre ad una cultura, ad una monocultura dell'acciaio, come dire, schiavizzata dietro i diktat di Ilva Arcelor Mittal. Ecco, diciamo che questi dati mi hanno fatto sorridere positivamente, perché ovviamente vedere un territorio che ha delle potenzialità vuol dire che c'è speranza per noi e per i nostri figli. Però occorre anche, da parte della classe politica, a livello regionale, a livello comunale e va bene, ma soprattutto sui tavoli che contano a Bari e a Roma bisogna battere i pugni per Taranto, far saltare i tavoli in senso metaforico, perché come per l'aeroporto Brindisi e Lecce ci vogliono accoppare, lo stesso a Roma, Taranto finora non è stata proprio considerata, è stata la sorellina povera. Ora c'è un sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti, il senatore Mario Turco, vedremo. Sta di fatto che è un peccato di Dio veramente vedere un territorio che brilla come turismo e poi, come dire, non ha le gambe per poter camminare e per poter volare. Ma sono veramente, oggi ho un approccio positivo perché questi dati che abbiamo espresso significa che nonostante tutto Taranto c'è. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre.